L'obiettivo è quello di interrompere la sia pur breve striscia negativa. Dopo il vittorioso esordio contro la Libertas Livorno, infatti l'Etrusca San Minato è incappata in due sconfitte consecutive, contro la Fiorentina Basket in casa e a San Giorgio sul Legnano. Domenica al Palacarismi e quindi arriva la Roburret Fides Varesse, un'occasione ghiotta per invertire la tendenza. Varesse è una squadra molto esperta, che si basa sull'asse play-pivot che l'anno scorso ha condotto la Fiorentina in semifinale, cioè Bloise-Rosignoli. Dopo aver faticato nelle prime due trasferte della stagione, so che non sbaglierà l'approccio alla partita di domenica. Mi aspetto un avarese che metta in campo tutta la sua esperienza e tutta la sua qualità, ed è una squadra che se lasciate esprimere diventa davvero pericolosa. I nostri tentativi di vittoria non possono che passare da una solida prestazione difensiva, attenta e sostanziosa. Non c'è dubbio che la partita di domenica ha lasciato in noi molta rabbia per l'epilogo sfortunato, però dovremo essere bravi a trasformare questa rabbia in energia e concentrazione. I miei ragazzi sanno bene che la strada è ancora lunga perché il campionato è appena iniziato, ma è fuori discussione che abbiamo tanta voglia di vincere, soprattutto davanti al nostro pubblico.